Alda, tu sei una calabresse di Vibo Valencia che vive a Firenze e hai voluto lanciare una raccolta di fondi per l'ospedale di Vibo e l'ospedale di Crotone, mettendoti d'accordo anche con le due aziende sanitarie. Da che cosa nasce questo tuo desiderio di aiutare i due ospedali? Sì, io sono una ragazza di Vibo Valencia che vive a Firenze attualmente, sono nutrizionista e attualmente svolgo la professione di docente qui a Firenze in una scuola. Mi è venuta l'idea di creare una campagna per aiutare l'ospedale di Vibo e quello di Crotone perché ho visto l'emergenza sanitaria nella quale ci troviamo e soprattutto dopo i vari rientri dal nord che ci sono stati in Calabria e quindi l'emergenza coronavirus che poteva contenersi al nord ed invece è stata trasferita poi al sud. E quindi da qui mi è nata l'idea di contribuire tutti con una campagna tramite GoFoundMe con un piccolo prezioso aiuto di ognuno di noi che può fare la differenza perché come sappiamo il sistema sanitario calabrese è già collassato, non è messo bene e quindi un nostro aiuto può aiutare gli ospedali. Per cui mi sono messa in contatto con l'azienda sanitaria di Vibo e quella di Crotone per concordare il tutto e per avere questa campagna raccolta fondi. Cosa bisogna fare per partecipare a questa raccolta fondi? Vuoi spiegarlo ai calabresi? Per donare è semplicissimo, basta andare sul link che ora mando qui sotto che porta direttamente alla piattaforma GoFoundMe alla campagna da me avviata per l'ospedale di Vibo e da lì si trova tra le foto un video tutorial che ho fatto io stessa per vedere come donare. È molto semplice, una volta aperta la campagna di Vibo basta cliccare sul tasto fai una donazione, da lì si inserisce prima l'importo che si vuole donare, ovviamente c'è la possibilità di mettere in anonimo la donazione e poi inserire i propri dati personali, quindi il nome, cognome, l'indirizzo, i dati della carta di credito ovviamente per poter fare la donazione e da lì è fatta, quindi è molto semplice. Da Buona Calabrese tu spieghi all'interno del comunicato che sono tanti i nostri conterranei che sono tornati nella nostra regione, quindi per questa epidemia che si è diffusa c'è necessità di strumenti e chiaramente bisogna aiutare gli ospedali per evitare ulteriori problemi. Esatto, come ho scritto nella mia storia della campagna, in seguito ai numerosi rientri che ci sono stati dal nord, la paura che questi contagi possano allargarsi in maniera incontrollabile è veramente tanta e quindi ho scritto e elencato anche quali sarebbero gli strumenti che servono al sistema sanitario perché già in tutti gli ospedali c'è una carenza di personale e c'è carenza soprattutto di materiali come già gel disinfettanti, le mascherine, i guanti, anche le tute e poi ovviamente per passare a macchinari più importanti e grossi come ad esempio i ventilatori e i monitor emodinamici, quindi questo è fondamentale. Hai stabilito un tempo massimo per questa raccolta fondi? Per la raccolta fondi ho avviato la campagna il 27 di marzo, quindi da pochi giorni, e c'è un tempo limite della campagna stessa per poter effettuare il prelievo, che arriverà direttamente all'azienda sanitaria di Vibo, di 30 giorni. Quindi io mi auguro che l'obiettivo prefissato venga già raggiunto in parte entro un mese, quindi entro il 27 di aprile. Spero che già a metà aprile, quindi che coincide con il periodo di Pasqua, riusciremo a raggiungere un obiettivo importante. Ovviamente, come è specificato anche nella storia della campagna, tutto il materiale che sarà acquistato con le donazioni che riceverà l'ospedale sarà solamente legato all'emergenza coronavirus, quindi appena si farà il bonifico all'ospedale di Vibo ci saranno delle foto e anche la PEC che mostrerà assolutamente quale materiale è stato acquistato per l'emergenza coronavirus e l'importo che è stato utilizzato. Quindi è importante per questo riuscire a raggiungere un obiettivo grande, un importo elevato per riuscire ad acquistare questi macchinari, per fronteggiare qualsiasi emergenza che può svilupparsi anche in seguito. Grazie a tutti.